Ciao ragazzi e bentrovati sul mio canale. Quello che volevo farvi vedere oggi è l'occhiale che ho acquistato da qualche giorno e sto cominciando a utilizzare. La marca è da 100%, l'occhiale è l'Hypercraft con lente Blutopazio, in più troveremo anche una lente completamente trasparente, molto utile da utilizzare nel periodo invernale. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Custodia rigida, solita manualistica che non ce ne facciamo niente. Allora dicevo, all'interno della confezione troveremo l'occhiale, più questa molto utile lente di ricambio, completamente trasparente. Questa andrò ad utilizzarla sicuramente nel periodo invernale o quando le giornate comunque si accorceranno e quindi con l'altra lente magari si ha un po' di difficoltà. Con questa qua almeno stiamo tranquilli. Un nasello di ricambio, uno sarà già montato giusto per avere la possibilità di adattarlo alla nostra forma. E dentro nella custodia, nel panno, l'occhiale che adesso vi faccio vedere. Quindi lente intercambiabile, molto leggero, un occhiale che pesa, dopo ve lo farò vedere, all'incirca 23 grammi. Nella colorazione la chiamano opaco viola, blu, ci sono dentro un po' di riflessi. A parte della stanghetta qua si vede che c'è del viola tendente, può diventare un po' sul blu. Mentre nella parte sotto, una parte grigia tendente all'opaco. Il resto della lente è completamente blu a specchio. Il nasello che è all'interno si può sostituire mettendo poi dentro quello che ci va più comodo per il nostro viso. Vi faccio vedere cosa pesa questo occhiale, che tra l'altro è molto bello, leggerissimo, veramente. Occhiale che siamo sui 23 grammi. Non so se si vede, ma siamo tra i 23 e i 24 grammi. Davvero, davvero molto, molto leggero. Lo sto usando da qualche giorno. Prima utilizzavo degli occhiali della Oakley con lente Prism Road. Diciamo che la differenza, direi che più o meno si equivalgono. Esteticamente forse sono più accattivanti questi qua, sono più belli questi qua. Perché con questa lente a specchio di questo colore, diciamo che sotto la luce del sole fa il suo effetto. Niente. Volevo farvi solo vedere che tipo di occhiali sto utilizzando. Se il video vi è piaciuto, mettete un like qua sotto. E ora vi saluto al prossimo video. Ciao raga!